Deve ancora muovere i primi passi la nuova Virtus San Nicolò Teramo. La società ha pensato prima a rinforzare i ranghi del suo dalizio salutando l'ingresso al fianco del presidente Salvatore Di Giovanni dell'imprenditore Filippo Di Antonio. Il nuovo vicepresidente porta con sé l'esperienza della sua creatura, la polisportiva Virtus Teramo, non solo per un progetto di sviluppo del settore giovanile ma anche per costruire un futuro importante a livello di prima squadra. La Virtus San Nicolò affronterà il suo quarto campionato consecutivo di Serie D, reduce dell'ottima annata dei record appena conclusa, terminata solo nella semifinale playoff a vantaggio della Vispesaro. Un ciclo ricco di soddisfazioni che si è chiuso con l'addio del direttore sportivo Ciccio Micciola, approdato alla vastese, e con quello imminente del tecnico Massimo Epifani. L'allenatore pescarese dopo quattro anni sulla panchina bianca azzurra è pronto ad accettare nuove sfide. Il suo nome era stato accostato anche al Teramo prima della scelta ricaduta su Antonino Asta, mentre sembra sempre più vicino il suo ritorno a Pescara per sedersi sulla panchina della primavera. Chi prenderà il loro posto in Rival Tordino? La Virtus San Nicolò si sta muovendo con ordine per individuare prima il nuovo direttore sportivo e poi mettere le mani sul nome giusto per la panchina. Per il ruolo dirigenziale ci sono stati contatti con Roberto Canestrari, pilastro della difesa del Teramo nel favoloso biegno 74-76, già direttore sportivo della Vispesaro e poi responsabile del settore giovanile del Fano. Una strada che però sembra in secondo piano rispetto al primo obiettivo sondato dal club, vale a dire Stefano De Angelis. Anche lui in passato ha vestito la maglia bianco-rossa a più riprese prima di intraprendere la nuova carriera ad Avezzano, dove è stato negli ultimi tre anni fino all'esonero dell'aprile scorso ad opera del vulcanico presidente Paris. Potrebbe essere proprio lui Stefano De Angelis, l'uomo a cui affidare la costruzione della nuova Virtus San Nicolò Teramo.